Musica Ben trovati in questo nuovo video oggi c'è la presentazione di un grande evento la mia prima bici elettrica costruita interamente da me ci troviamo in questa magnifica piazza di fronte al palazzo dei Consoli momento storico, un evento unico togliamo subito i media alla Ammon Ra Musica Eccola qui svelata al pubblico la Ammon Ra le caratteristiche principali delle tre tipologie di biciclette dalla All Mountain, Downhill e la Trail ho preso da queste tipologie di biciclette e le ho riassunto in questo telaio e in questa formazione il nome delle bici sono i nomi degli antichi faraone egizia dedicata al dio Ammon Ra è una mullet presenta una ruota da dietro da 27 plus davanti da 29 terasse di 122 cm monta la forcetta anteriore doppia piastra Olinse ammortizzatore centrale Olinse da 240 mm l'escursione è da 200 mm sia l'anteriore che al posteriore l'angolo di sterzo è di 65.5 gradi del reggisella di 65,5 gradi monta un cambio Shimano 11 velocità corona da 34 detti freni anteriore e posteriore magura dischi da 203 mm reggisella da 125 di escursione equipaggiato con motore elettrico LRA osserviamo la bici la batteria è inserita non resta che fare un testo prossimamente verrà fatto e verrà anche messo sul canale di Luigi Archimede Pinagon vi ricordo di scrivervi al canale e di mettere un like grazie a tutti e al prossimo video ciao